Mi ha perduto il mio caro Oh mio dio guardare il telefono Regà vedete non si guida Quando si usa il telefono del GTA E andiamo Comunque tra poco dovrebbe fare giorno Credo di si Lo spero Perché praticamente non è che mi mette notte Mi mette meteo attuale Poi sono pure un po' raffreddato Ok Comunque ce la faremo Qualcuno è rimasto trollato mi dicono Siamo ottavi E andiamo Di notte poi Frena 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 Eccoli qua i bei suini No no io faccio il circuito classico Perché sono un bravo suino Mamma mia Ok aspettate Tommy come stai sui Andiamo andiamo Ah già mi è sopporto un po' raffreddato Sono un po' tappato Un po' trollato il suino Però ce la faremo Andiamo 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 Oh che tempenni Norsasso Ok siamo vivi siamo vivi Non ditemi come ma stiamo andando veramente veloci Quarta posizione Proseguiamo per questo bel parkurito Ok Sono andato leggermente lungo eh Pure voi vi trollate? Solo io sono rimasto trollato qua Non ci voglio credere eh Ah perché ce la faremo Ok ok Può capitare allora Saliamo su Dice un bel check Guardate E' spettacolare fare la gara di notte Ah Doniele Peretto Primo sui Non va da nessuna parte E nemmeno cresce Va da nessuna parte Eh ok Qualcosa bisogna fare eh Siamo tutti qua? Guardalo che già è passato Non ora sui Adesso 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 Ok Ah io rimango qua Perché così almeno questo passa qua E secondo i calcoli del suino Ha fatto bene a mettere senza collisioni Guarda crash Ok Ah Daniele è cascato Va bene Di notte rega mancio io crede eh Ah attendiamo andiamo 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 Io rimango qua Sui Perché ora passa qua Sì 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 No 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 Ok 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 Non dico nada Allora La cosa che mi preoccupa Non è arrivare primero È fare la miniatura di notte Andiamo Cosa abbiamo qua Level Asian Dove devo andare? Ok 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 Credo di aver capito C'è qualche suino che è arrivato? Credo proprio di no Ok andiamo qua Dobbiamo scendere esattamente qui Ok Fino a qua ci siamo Aspettate Andiamo un po' di rincorso Ecco ho visto che erano due livelli Oh Le E' il c'è che sta là Perfetto Andiamo Oh sui sui Oh meno male rega Ho saltato pochissimo Oh no Quale turbo sui Ok Aspettate Aspettate Prendiamo la rincorso da qua E andiamo Parkurito notturno Aiuto 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 No 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 Ma sono ancora primero rega Questa parte mi sta trollando eh Devo essere sincero Mi succede sempre questo rega Sempre questa cosa qua Praticamente non riesco a frenare Peccato Ci riproviamo Ok 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 Rega io provo ad andare pianissimo Però se non ci arriva Oh zitti tutti zitti tutti Bisognava fare piano Ok Prendiamo la rincorsa Via veloce veloce Olle Ah sali sali C'è che Dove sei checkpoint Ecco di qua Paleoliche notturne No eh Per favore no Oh mio dio Che ore so Le tre Di mattina Però ancora è notte 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 Su GTA Qual è la via Destra sinistra Sinistra Destra Sì E qui E destra di nuovo Vero rega Io indovino sempre No 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 Ho sbagliato Ma c'ho la macchina distrutta Credo proprio di sì Sapete Checkpoint preso Andiamo Andiamo Ok Frena 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 Eh Sinistra Oh è di nuovo Destra rega Ah no no Sinistra E qui mi sembra Strano che sia Destra Ah no Ma erano troll Oppure ero io che sbattivo Contro l'angolino Cioè questo paletto qua Non ho idea Sinceramente Comunque noi Proseguiamo Ci spariamo Niente Perché me trollo Niente drift Purtroppo Mini mini Eccolo qua Andiamo poi di notte Che è un casino Non si capisce Nada Dobbiamo girare ora Sì sì Wow Perfetto così Andiamo Più veloci Che possiamo Ok Ha bisogno Girare qua Olle Otto minuti Di parorito E dobbiamo Girare di nuovo Sì 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 Siamo vivi Andiamo Andiamo Belli rapidi Cosa abbiamo qua Ok Così Sì sì Olle Primo livello fatto Ma là c'è pure un check E andiamo Olle Ragazzi Sta diventando giorno Buona notizia Perché Io ho visto come finale Una parte fantastica Quindi mi serve Una miniatura Ah e poi questa macchina Si chiama Burger Shot È una macchina Fatta apposta Per gli hamburger Ok Andiamo L'ultimo No no Non mi dico Sbagliato l'ultimo Perché sono andato Troppo No Tutto ok Tutto ok Prendiamo il bell Checkpoint Retromarcia Perché ci sono i cartelli E poi perché ho visto il turbo Regà Non mi frega la gara Ok Andiamo Oh 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 Vai piano sui Meno male che sta diventando giorno Regà Meno male Ok Giriamo Facciamo molta attenzione qua Devo dire che è un parkurito Bello difficile eh Non è così facile Perfetto così Giriamo 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 Possiamo andare Oh c'è un bel Check qua E rigirati sui Non è retromarcia Vero Credo di no 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 Tutto ok Andiamo Guardate che panorama Sembra un altro videogioco eh Spettacolare Ma per caso Mi posso infilare Wow Dai sui ce l'hai fatto eh Ce la fai Sui Si che ce la fa 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 Non ce la fai? Perché non va avanti? Si 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 Tutto ok regà Allora qua cosa abbiamo Andiamo Andiamo qua Ok Che meteo strano Che poi quello attuale Non è mortato Oh mio dio C'è un po' d'ansia eh Oh di nuovo Regà ma io non c'ho Io credo Mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Ci siamo eh Ok No no Stavo a scherzare Oh oh No 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 Sui Ok abbiamo fatto Quei due livelli Che trollavano eh Ma leggermente Guardate qua La macchina Burger shot Con i hamburger Wow Spettacolare Che ore sono le 6? 6 e 45 Proseguiamo Questa macchina è fatta apposta Per fare il parkurito Negli hamburger Vedete? Ok Bella Motocicletta Ah un bel glide Vero? Ah questa è la mia moto Personalizzata Veroce sui Allora devo dire Per fare una miniatura perfetta Deve essere mezzogiorno E ancora è presto Eccola la la parte finale Come faccio io? Sono vivo Sono vivo Ok siamo a 13 minuti di parkurito Dove siamo? Dove siamo? Ah non è finito Ok ok La parte concava Sì Oh aiuto 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 Ok Aspettate Salta sui Ok Wow Guardate là Che spettacolo Ci siamo Abbiamo Rockstar Reritor Va Andiamoci a prendere Questa bella Primera posizione No Devo dire che va bene Il meteo Andiamo 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 Aiuto 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 Sono vivo Sono vivo Sono vivo Mamma mia Comunque sia Se vi è piaciuta la gara di Romanaccio Kill Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate il mio secondo canale Big Pork Saluti Che si suini Bello Bello Grazie a tutti